Ciao carissimi, oggi il 19 marzo 2024, io vi saluto e inizio questo video con l'ennesimo approfondimento dalla zona dell'operazione militare speciale in Ucraina, sul territorio ucraino. L'esercito ucraino continua a bombardare massicciamente la regione di Belgorod, purtroppo i terroristi del regime di Kiev, cari amici, non si fermano, loro continuano a utilizzare le armi stranieri, soprattutto le armi statunitensi, le armi provenienti da Europa occidentale per bombardare e uccidere gli abitanti civili, i cittadini della federazione russa sul territorio della federazione russa. Quindi questo ormai è un precedente che va al di fuori di qualsiasi comprensione, quindi vi ricordo tutti quei discorsi che si facevano anni fa quando i russi dichiaravano che il regime ucraino attacca territori russi, ci sono stati numerosissimi casi di provocazioni, ci sono stati diversi casi di missili, di razzi che finivano sul territorio russo all'epoca quando i russi condividevano questi fatti, i vari giornalisti, esperti, politici occidentali chiudevano gli occhi, giravano la testa dall'altra parte, dicevano che questa è la propaganda, che non è niente vero, che l'Ucraina non arriverà mai a fare cose del genere, anche se comunque c'erano le conferme, c'erano i documenti, i dati esatti, la realtà oggettiva, ma anche casi clamorosi come ad esempio l'abbattimento con un missile antiaereo di un aereo civile russo che proveniva da Israele, andava in Siberia, se voi ricordate è accaduto nel 2001 e questo caso non è mai stato approfondito oppure giudicato dagli occidentali, anzi loro hanno fatto di tutto per poter insabbiarlo, per non raccontare ai cittadini occidentali la realtà di questa situazione e la realtà è che il regime ucraino da sempre è stato un regime terroristico, un regime criminale, ha provocato questa guerra per lunghi anni e adesso sta facendo quello che in realtà faceva da sempre, ovvero terrorizzare i cittadini civili, cercare di provocare la Russia all'ulteriore inasprimento delle operazioni militari sul territorio dell'Ucraina, ovviamente lo fanno perché gli ucraini sono strumenti nelle mani degli anglosassoni e a loro serve la guerra, loro vogliono continuare la guerra, mandare avanti le operazioni bellici che devono essere ovviamente pagati dai cittadini occidentali e per questo vi raccontano queste bagianate, le minacce fantomatiche della Russia, bisogna andare, bisogna dare i soldi, bisogna dare le armi, in realtà poi vedete come queste armi vengono utilizzate. Sono di nuovo sotto attacco i distretti urbani di Graivoransk, i Szebekansk, i distretti di Belgorod, Barisavski, Krasnoyaruski e la città di Belgorod sotto attacco negli ultimi 24 ore, sono stati uccisi civili, purtroppo una mamma giovane con un piccolo bambino è stata uccisa mentre si trovavano nel cortile della loro casa, è precipitato un razzo del sistema statunitense prodotto in parte in Stati Uniti, in parte in Repubblica Ceca che si chiama Vampire, questi sistemi adesso sono più diciamo problematiche perché questi razzi sono troppo piccoli per poterli intercettare e quindi questo razzo è caduto, esploso, è morta la giovane mamma con il suo bambino. Questa è la realtà dei fatti, ciò per cui i russi stanno combattendo, ovvero la propria sicurezza, la necessità di debellare un regime sanguinario, un regime terroristico che si trova a Kiev. Il sistema di difesa aerea russa abbattono regolarmente bersagli aerei, se si tratta dei droni UAV oppure missili come Tochka-U oppure sistemi come S-300 oppure anche i razzi reattivi non guidati dei sistemi di produzione sovietica, però purtroppo non sono in grado di intercettare tutte le tipologie delle armi perché ad esempio i terroristi ucraini iniziano la manovra dei mezzi con i lanciatori immediatamente dopo il lancio dell'ultimo razzo e questo esclude la possibilità di un combattimento di controbatteria da parte delle forze delle armate russe perché quando i russi intercettano l'arrivo dei missili calcolano in fretta la posizione del lanciatore ucraino, il lanciatore ucraino in pratica sta già scappando a gambe levate, loro lanciano 3, 4, 5 massimo 6 razzi da una posizione e poi subito scappano a bordo delle auto, loro hanno diciamo disposto questi lanciatori anche a bordo dei pick up quindi le macchine, le automobili non grandi e riescono a fare questi lanciatori vaganti che lanciano i missili dall'interno della zona del territorio ucraino, ovviamente nessuno passa, di loro riesce a passare la frontiera con la Russia perché la frontiera adesso è abbastanza saldamente chiusa, però dall'interno del territorio ucraino loro riescono a lanciare questi razzi reattivi non guidati che purtroppo precipitano nelle zone civile, nelle città e danneggiano sia le costruzioni che soprattutto uccidono le persone. Per ora l'unica tattica utile che si è mostrato diciamo funzionale contro questo tipo di strategia terroristica ucraina è la tattica di utilizzo dei droni spia che in pratica monitorano dei settori sul territorio ucraino nei pressi della frontiera, quindi si parla dei settori di circa 20 chilometri quadrati. Il drone sorvola questi territori, osserva ciò che sta succedendo, quando vede lo spostamento di strane macchine oppure posizionamento di una macchina nelle zone un po' coperte, nascoste, nelle zone di bosco e così via, il drone subito controlla questo veicolo se vede la presenza di militari oppure di lanciatori pronti per lanciare i razzi oppure la presenza dei razzi di rifornimento per i lanciatori che sono nascosti da qualche altra parte. Il drone subito comunica le coordinate agli operatori dei droni d'attacco. I russi utilizzano molti droni di tipo Lancet, se voi non so se avete visto o se ricordate, sono dei droni che sono fatti a forma di otto ale a forma di X e questi droni sono diciamo molto utili, i russi li applicano ovunque in prima linea, un drone del genere riesce a bruciare un carro armato addirittura se lo colpisce in posto esatto, giusto e con questi droni russi riescono bruciare anche questi automobili, sistemi di lancio, addirittura colpiscono i mortai, gli obici semoventi e così via. Quindi c'è un lavoro di squadra tra operatore dei droni di osservazione e operatori dei droni Lancet. Una volta trovata la posizione del nemico subito vengono comunicate le coordinate, su queste coordinate inizia a lavorare drone e Lancet e in gran parte dei casi risulta funzionale. Il problema principale per quello che adesso dichiarano stessi militari russi che si trovano in quella direzione e che hanno bisogno di più riparti all'interno delle loro forze di difesa che si occupano di questo lavoro, quindi servono più specialisti di droni, più specialisti di droni d'osservazione e anche di droni Lancet. A quanto pare questo messaggio è stato ascoltato dal Ministero della Difesa per cui ieri è stato già comunicato che i nuovi riparti di operatori dei droni sono stati mandati in quella zona per aumentare il monitoraggio del territorio dell'Ucraina che si trova vicino alla frontiera con la Russia, quindi molto probabile nelle prossime settimane noi vedremo aumentare l'utilizzo dei droni di osservazione di droni di combattimento proprio in quel settore, perché questo è l'unico modo efficace per organizzare la difesa del confine russo e aumentare la quantità dei riparti operatori dei droni. In direzione di Kursk l'insediamento Tiotkino, cari amici, è l'insediamento che è stato all'inizio, all'interno di tutte le notizie, tutti i notiziari, perché proprio su questo insediamento hanno cercato di muoversi le forze armate ucraine nel primo giorno quando c'è stato distrutto una grande quantità di mezzi e di militari ucraini da parte dei russi. Ecco, questo insediamento si trova ancora sotto il bombardamento di artilleria e dei droni e dei terroristi ucraini, non hanno abbandonato assolutamente la loro intenzione di continuare a premere su quella regione. È chiaro che i metodi terroristici, come vi ho detto anche prima, come vi ho raccontato nei vari video precedenti, sono gli unici metodi che sono rimasti all'esercito e al governo ucraino per poter dimostrare ai loro padroni occidentali che loro sono in grado di avere un qualche tipo di iniziativa tattico-strategica in questa guerra. Ovviamente qua parlare di una vera e propria iniziativa tattico-strategica è sbagliato perché il terrorismo di questo tipo non fa mai parte di un'azione di guerra, perché si possono accettare le azioni del genere, le azioni di sabotaggio, che ovviamente il nemico le può anche dichiarare come azioni terroristiche, però se queste azioni vengono effettuati contro le macchine belliche, contro il sistema militare, contro le basi militari, contro le retrovie legate al sistema bellico. Quando invece vengono impegnati i militari, i sistemi di artilleria, i droni e altri sistemi bellici per colpire i cittadini civili, per colpire le zone civili, per bruciare le macchine civili, per uccidere le mamme con i loro bambini, noi parliamo di terrorismo vero e proprio, perché ciò che si vuole ottenere è un effetto politico all'interno del paese, di in qualche modo danneggiare diciamo lo spirito del popolo che sostiene proprio il governo nella decisione di combattere contro il nazismo e questo vogliono adesso, sperano ottenere gli ucraini, però bisogna dire anche come ieri ha affermato nel proprio discorso durante i festeggiamenti per decenni di ritorno della Crimea nella famiglia della Russia, il presidente Putin ieri ha detto che in effetti questi attacchi, vili attacchi, attacchi terroristici contro le regioni di confine tra la Russia e Ucraina, regioni russe, hanno rafforzato lo spirito dei cittadini russi, in effetti è strano, ma proprio da quelle regioni sono arrivati i dati più entusiasmanti riguardo le elezioni, nonostante il pericolo di essere colpiti, le persone si ricavano ai seggi, votavano già in primo giorno dalle zone di confine, sono arrivati i numeri più alti di frequenza dei seggi elettorali, quasi 40%, mentre la media in tutto il paese, in tutta la Russia era circa 36%, e poi sono stati diciamo proprio quelle regioni che hanno votato quasi unanime per Vladimir Putin, ad esempio dal Donbass sono arrivati i numeri che sono circa 99,2% delle delle persone che hanno votato, hanno votato per Putin, qua sono stati superati solo dalla Transnistria, in Transnistria dove durante le elezioni c'è stato anche attacco terroristico ucraino contro una brigata militare dove hanno bruciato un elicottero con un drone, Transnistria che ha votato 99,8% per Vladimir Putin, quindi le azioni di guerra, le azioni terroristiche non schiacciano e non fanno perdere ai russi il loro spirito patriotico, anzi fanno il contrario, li rendono più diciamo pronti di difendere i propri valori e la propria patria. Comunque non ci sono stati sfondamenti del confine di Stato nella zona di Kursk, nel villaggio di Teotkino, qua si tratta solo di bombardamenti, solo dei tentativi di danneggiare il più possibile la vita dei civili in questo luogo. Il confine è salidamente tenuto dai militari russi, gli ucraini non hanno neanche possibilità di avvicinarsi al confine, adesso si parla di creare una zona grigia sul territorio ucraino che sarà profonda da 20 anche fino a 50 km, quindi i russi in pratica utilizzeranno artilleria anche probabilmente pesante come i sistemi Malca da 203 mm proprio per tenere gli ucraini lontani dalla zona di confine. Però come ha anche affermato Putin nella sua recente intervista è molto probabile che i russi passeranno la frontiera anche in quel settore e inizieranno anche lì a prendere sotto il loro controllo il territorio ucraino, probabilmente allontanando i militari ucraini ulteriormente dalla frontiera, questo non è escluso e questo sicuramente per gli ucraini sarà un grave danno. I droni UAV di tipo aereo sono stati distrutti in Crimea, cari amici, ieri alle 21.30 ore di Mosca, nella regione di Voronezh è stato distrutto un drone alle ore 18.50 ore di Mosca e nella regione di Belgorod tre droni sono stati abbattuti al 17.10 ore di Mosca. Se drone diretto a Crimea era diretto in una base navale, drone nella regione di Voronezh, quando è stato poi stabilito perché hanno tracciato il suo percorso ed era diretto in un impianto locale di deposito di materiale petrolifero, tre droni che dovevano esplodere a Belgorod erano in pratica indirezzati nelle zone civili della città, proprio anche l'orario era scelto diciamo particolare perché alle 7.10 di solito i bambini escono dalle scuole, alle 17, perdonatemi, alle 17 bambini escono dalle scuole dopo aver finito le lezioni e anche quelli che sono in Russia vengono chiamati dopo lezioni e quindi il momento in cui i genitori con i bambini ci sono per strada, proprio in quel momento i terroristi ucraini hanno sperato con questi droni bombardare le strade di città per colpire più possibili civili per fortuna questo non è avvenuto perché i droni sono stati abbattuti. In direzione di Kherson, cari amici l'esercito ucraino sta costruendo fortificazioni nei villaggi costieri dalla parte destra del fiume loro si preparano alla futura avanzata russa, ormai è chiaro che i russi si stanno preparando, si stanno mobilitando per andare avanti quando sarà possibile dal punto di vista climatico perché adesso lì è ancora tutto abbastanza difficile da percorrere il territorio perché c'è ancora umidità e non è abbastanza preparato il terreno per il passaggio dei mezzi corazzati soprattutto. A Krynki sulla costa russa le forze armate ucraine stanno cercando di far attraversare piccoli gruppi di fanteria su imbarcazioni, russi li bombardano e li affondano, questa notte sono stati due tentativi, in ogni tentativo hanno partecipato due imbarcazioni, in tutto circa 20 militari ucraini sono stati distrutti, le imbarcazioni erano molto piccoli, due dei quali erano i gommoni, quindi non classiche imbarcazioni che di solito loro utilizzano, qua si trattava di piccoli gommoni, i russi li hanno bombardati prima con i droni e poi dopo utilizzando anche l'artilleria, quindi militari ucraini non sono riusciti a raggiungere i propri commilitoni sulla parte sinistra del fiume nel villaggio di Krynki. Lo spazio attorno ai militari ucraini a Krynki diventa sempre più ristretto, loro non riescono a muoversi, non hanno lo spazio di manovra, l'unica cosa che si riesce a fare è stare nascosti e sotto copertura della propria artilleria e dei droni, anche i russi utilizzano droni e artilleria, quindi questa zona si trova in una specie di zona grigia dove nessuno può fare grandi manovre proprio per la scarsa ormai possibilità di manovra dal punto di vista di territorio perché lì si trovano le macerie, tra le macerie cari amici è molto complicato fare la guerra, le macerie è una condizione più difficile per fare la guerra che esiste perché non c'è niente di prevedibile, è molto difficile attraversare, è molto facile per minare, è molto facile per nascondersi e fare gli agguati, per questo motivo tra le macerie di solito preferiscono andare molto piano e più che altro utilizzare l'artilleria e bombardamenti pesanti. Quindi i russi per adesso non fanno le azioni d'assalto in questo luogo e si registra un calo della qualità del personale ucraino, questo lo affermano i russi, dicono che le persone che vengono utilizzati soprattutto ultimamente, negli ultimi tentativi di passare il fiume non sono preparati, non sono dei marines esperti, in effetti molti di loro non sanno neanche come attraversare il fiume in maniera più veloce, ad esempio stanotte due barche, di solito per arrivare a un punto esatto utilizzando una barca in modo più veloce su un fiume con corrente forte bisogna partire dalla riva opposta qualche chilometro più in alto rispetto al luogo dove si trova il posto sulla riva nella quale si vuole sbarcare, perché la corrente porta la barca e si fa molta fatica diciamo arrivare in modo diretto o ancora più faticoso se si parte dalla posizione più bassa rispetto alla corrente del fiume. Stanotte gli ucraini sono partiti praticamente da un luogo che si trovava di fronte a Krynki, hanno fatto qualche metro, sono stati spostati dalla corrente, hanno dovuto accendere i motori, i motori anche se hanno silenziatori, comunque attirano subito attenzione dei droni, droni hanno scoperto questa gente, in pratica loro non sono riusciti neanche a arrivare a metà fiume, ciò che riportano ai video è che sono stati massacrati davanti alle proprie rive e questo sicuramente parla del fatto di scarsa preparazione di intere squadre operative perché non sanno le cose banali, cioè se si vuole arrivare dall'altra parte del fiume bisogna partire qualche chilometro più in alto della corrente, dalla propria riva, così probabilmente non c'è bisogno neanche accendere i motori, si può arrivare utilizzando semplicemente i remi, rimando senza fare grande rumore e poi al limite si può passare lungo la riva del nemico che è ancora più semplice da fare perché è quella meno monitorata, perché è più monitorata la parte della riva del nemico perché da lì si parte e anche il fiume in suo complesso. Qua invece hanno dimostrato proprio la totale incapacità di preparare un'operazione del genere, infatti i russi hanno detto che evidentemente ormai gli ucraini buttano in questa operazione la gente forse che proviene da queste catture dei cittadini che ci sono per strada in Ucraina, dei quali noi vi diamo video, io le condivido sul mio canale privato Telegram, parecchie, anche oggi ho condiviso un video molto interessante su come i commissari militari ucraini ormai catturano la gente persino nella metropolitana, quindi si mettono, bloccano i passaggi dell'uscita di metropolitana, lì per forza uno se vuole uscire da metropolitana deve andare lì, c'è un mucchio di questi personaggi aiutati dalla polizia che in pratica sequestrano la gente, è una cosa veramente brutale. Mi immagino quelli che in Italia strillavano e dicevano che Ucraina è la libertà, la democrazia, valori e tutto quanto, andate a vedere questi video dove c'è la gente che va al lavoro e viene sequestrata da questi delinquenti come se fossero gli animali nel bosco, selvatici, messi in gabbia e poi mandata a morire in prima linea per gli interessi di Zelensky per le sue narici sporche di cocaina. Comunque in direzione di Zaporozhye le forze armate russe stanno avanzando a nord-ovest di Verbavoie, questa è una notizia buona per i russi, un'altra roccaforte delle forze armate ucraina è stata catturata in quella direzione, si svolgono duelli di artilleria reciproci anche con l'utilizzo di sistemi di artilleria mobili come OBCS-20 oppure carri armati e utilizzano tantissimi droni, c'è una grande attività dei droni in questo settore. Comunque la cosa importante che bisogna dire sulla sezione di Rabotina-Verbavoie è che lì si aspettava una grande controfinsiva ucraina, grande dal punto di vista tattico ovviamente, non si parla di una controfinsiva strategica di enormi dimensioni, però ucraini hanno trasferito nelle ultime settimane in quel settore tantissimi militari, tantissimi mezzi e sinceramente io guardando la disposizione di queste forze, mi immaginavo che ci sarà almeno un tentativo di una grande spinta, invece a quanto pare tutto questo non è avvenuto, non si capisce per quale motivo, è proprio forse perché gli ucraini sono deboli, perché mancano i militari esperti, perché sono demoralizzati, perché manca la connessione tra i riparti, non lo so, ci sono diverse spiegazioni che si possono dare, la realtà dei fatti è che adesso i russi hanno ripreso un'avanzata dinamica e le forze armate ucraine fanno ormai difficoltà addirittura a difendersi in maniera collettativa, quindi loro hanno spostato diversi riparti militari che erano schierati nella zona di Rabotina-Verbavoie, hanno spostato più verso Zaporogia e secondo me ormai per tutti è chiaro che i russi presto lasciando alle spalle Rabotina-Verbavoie andranno verso Zaporogia e quindi ci saranno le battaglie lì, quindi forse gli ucraini ormai stanno preparando a quel scenario preferendo lasciar perdere la tritta carne di Rabotina-Verbavoie dove loro hanno perso tantissima gente, cari amici, qua bisogna dire che gli ucraini in quella zona hanno veramente sacrificato troppe persone per niente, per lotta per due o tre chilometri, in questo caso i russi sono stati molto abili nell'usare questa strategia, questa tritta carne simile a quella che loro hanno utilizzato anche a Bahmut, simile a quella che hanno fatto a Davdevka, qua però i numeri sono veramente allucinanti, rispetto alla dimensione ridotta del territorio i numeri sono veramente stratosferici, i numeri delle vittime io parlo, gli ucraini in quella zona hanno perso tra i loro riparti i migliori, i loro combattenti più esperti che erano in grado di svolgere i combattimenti utili e quindi adesso lì si trovano in difficoltà. A nord di Mariinka, cari amici, ci sono pesante battaglie a Krasnagorov che l'esercito ucraino contrattacca cercando di riprendere almeno in parte il controllo sull'insediamento, gli ucraini numericamente sono superiori ai russi in questo settore, però i russi hanno la netta prevalenza in artilleria e da ieri nella zona hanno utilizzato anche attivamente l'aviazione bombardando le posizioni ucraine con le bombe FAB, in particolare i russi hanno colpito e continuano a colpire anche oggi l'impianto industriale di Krasnagorov che ha trasformato dagli ucraini nel loro punto operativo e per ora l'iniziativa tattica è dalla parte dei russi. Questo contrattacco ucraino a Krasnagorov dal punto di vista tattica non ha portato a nessuna utilità perché i russi in pratica utilizzano in maniera molto intelligente l'artilleria e forze aeree e non entrano nello scontro diretto con i gruppi tattici corazzati di fanteria dei militari ucraini, li faranno entrare su qualche pezzo di territorio, li faranno spalmarsi su questo pezzo e poi li bombardano selvaggiamente in modo estremamente massiccio con l'artilleria e anche adesso con le forze aeree, quindi russi sicuramente in questa situazione hanno la prevalenza. A ovest di Avdievka segnalano l'avanzata delle truppe russe a Arlovka, cari amici. I combattimenti si svolgono in direzione di Nova Kalinova vicino a Berdici, Toninke e a Pervamaiske, quindi lì la zona di fronte dal punto di vista strategico è abbastanza stabile, dal punto di vista tattico su diversi settori c'è una netta prevalenza da parte dei russi nell'attività di sfondamento, loro si spostano prendo territori, non si tratta, sottolineo qua non bisogna essere entusiasti, dire ah russi hanno vinto, hanno conquistato, hanno fatto, non si tratta di dei sfondamenti di 20, 30, 50 chilometri, si tratta di un lavoro molto delicato, ogni giorno fanno qualche centinaia di metri, fino a un chilometro comunque si muovono, perché lì è una zona estremamente disseminata con le mine e ci sono tantissime trincee, tantissime trappole, quindi i russi vanno lenti, con piedi di piombo, non hanno assolutamente nessuna scadenza, possono andare avanti così fino a 2036, tanto adesso Putin rimarrà al potere per altri 10 anni, quindi sicuri, tranquilli, questi fanno il loro lavoro. In direzione di Cia Sofiar, cari amici, le forze armate ucraine sono state buttate fuori dalla città, in una parte di periferia anche hanno perso le loro posizioni, adesso loro controllano un'area fortificata nella periferia di Ivanovska e Krasne, l'esercito russo continua la sua offensiva, lì come vi ho già detto si tratta di un lavoro di artilleria che si trova in un'altura al nord di Ivanovska e Krasne, i ucraini vogliono in tutti i modi disturbare questo lavoro di artilleria, però i russi continuano ad allontanarli da quella zona. A Danetsk, cari amici, purtroppo questa notte è stato ucciso un adolescente, un ragazzo nato nel 2008, due civili sono rimasti gravemente feriti per via del fuoco dei terroristi dell'esercito ucraino, i nazisti hanno sparato nelle ultime 24 ore, 143 colpi di munizioni di artilleria contro i civili, questa è purtroppo la realtà che a Danetsk si ripete dal 2014 praticamente ogni giorno, ogni notte, non c'è niente di nuovo purtroppo, questa cosa potrà cambiare solo quando i riparti operativi russi sfonderanno le linee, allontaneranno l'esercito ucraino da territorio di Donbass, li getteranno verso Kiev o ancora più lontano in Polonia che vanno pure in Occidente, comunque basta che lasciano in pace questa gente del Donbass che è martoriata ormai dal 2014 ad oggi, cioè 10 anni questi vivono sotto la guerra, 10 anni ogni mattina hanno queste notizie che qualcuno è stato colpito, qualcuno è rimasto ferito, qualcuno è rimasto ucciso, questo terrorismo sicuramente deve finire, io credo che finirà, i russi sono a buon punto e devono continuare con questo ritmo, con questa dinamicità. Amici, io per adesso ho condiviso le cose più importanti che sono successe nelle ultime 24 ore in prima linea, se volete approfondimenti, se volete vedere i video, se volete leggere i particolari, conoscere i particolari di questa situazione, tutto quello che il nostro mainstream non vi racconta perché noi purtroppo viviamo in una bolla di propaganda vergognosa, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Inoltre io vi ricordo che se volete sostenermi qua su YouTube potete iscrivervi al mio canale, condividere i miei video con i vostri amici e commentare i miei video. Qua alle mie spalle vedete il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, in questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo argomento, se volete sapere chi, come, quando e perché ha organizzato questa carnificina, io vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione, grazie per il vostro supporto, per il vostro sostegno, grazie anche per le vostre donazioni qua su YouTube, io veramente sono molto grato semplicemente per il fatto che molti di voi hanno la voglia di aprire gli occhi e di guardare ciò che succede nel mondo attraverso uno sguardo libero da tutti i condizionamenti, da tutte le propagande che esistono. Quindi carissimi, veramente un grande grazie a tutti voi, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.